buongiorno oggi 21 aprile giove aiuterà a rendere audaci i nati nel segno della riete deluderà le aspettative dei nati nel segno del toro e del leone per il momento evitate di tentare la fortuna e puntate tutto sulla qualità del carattere marte smorzerà il fuoco della passione tra i nati nel segno della vergine e del sagittario elargisce passioni travolgenti ai nati del segno della bilancia i quali avranno molto da divertirsi il sole non aiuterà i nati dell'acquario e dello scorpione a mantenere certi ritmi estenuanti la salute prima di tutto lancia segnali positivi ai nati nel segno del cancro e dei pesci i quali dovranno al più presto riprendere l'attività fisica dovete diventare belli oltre ad essere vitali saturno porta nuove opportunità inati nel segno del capricorno e dei gemelli tutte da cogliere al volo e ricorda ciò che non si possiede né si conosce non si può dare né insegnare ad altri grazie per l'ascolto e a risentirci a domani quando sonri ciao 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 ciao